Intesa San Paolo e Figurine Panini presentano Le cose che non sapevi di voler sapere sulle figurine panini Scorrendo l'album dei ricordi, come sono le raccolte delle figurine panini, mi sono imbattuto in un grande centrocampista, un centrocampista che è stato sicuramente tra i più famosi, tra i migliori negli anni 70-80. Parlo di Giancarlo Antonioni, anche lui una vita dedicata ad una sola squadra, quella appunto della Fiorentina, un giocatore veramente di grandissima classe. Peccato che non sia riuscito a vincere molto con la maglia viola, solo una Coppa Italia nel 74. Però è indubbio che Giancarlo Antonioni sia tolto una grande soddisfazione e l'ha tolta anche a noi vincendo il Mondiale in Ispania nel 1982, dove tra l'altro segnò anche un gol nella famosa partita con il Brasile, ma quel gol fu annullato. Giocava a testa alta, era veramente di un'eleganza, un tiro micidiale, insomma un giocatore fantastico, che però ebbe anche, come forse molti ricorderanno, un momento difficile della sua carriera nella stagione 81-82, nel novembre dell'81 un gravissimo incidente nella partita contro il Genoa, in uno scontro con Martina. La paura, veramente il gelo, la tragedia sfiorata allo stadio comunale di Firenze e poi il ritorno successivamente nel marzo dell'82 in una partita contro il Cesena. Chiaramente è un episodio negativo, ma un episodio in cui Giancarlo Antonioni è uscito alla grande e poi vincendo addirittura il Mondiale in quella stagione nell'82. Giancarlo Antonioni, ora dirigente della Fiorentina, uno dei grandi del nostro calcio. Giancarlo Antonioni, ora dirigente della Fiorentina,